You think you know me? Questa si faceva al fondo La richiesta dei like Adesso lo dimenticano Questo video Ogni vostro like facciamo una multi No ogni 10 Sì una multi è 10 giusto Sì 10 Un like una multi Mercoledì quando faremo Il video pool Delle pullate che magari sarà diviso in due Se sarà abbastanza corposo Cioè in pratica potreste arrivare a farci Fare 10 video pool Per dire se siete proprio matti Però vabbè finirà male Questa è la proposta di Dario Quindi colpevole Dario Perché Sara non è molto d'accordo vero? No perché io non le faccio Noi siete pazzi Si parla di somma delle nostre pull Non una multi a te E poi c'è Pala ovviamente Perché tanto parla solo Sarà l'unico che riuscirà a spiegare Questo personaggio Da un lato meraviglioso dall'altro Io mi tocca dire Sono un po' deluso Ovviamente c'era il disclaimer Perché qua sono Sì oggettività sulle skill Perché quelle sono Però un attimino di parere Ovviamente in sacred Quindi vale 0 Come al solito la prova del personaggio Però Non lo so Questa seconda parte di skill Che poi vi diranno Andrere a Pala Che per adesso Trova poco poco utilizzo Non mi piace Per me in SS Deve essere tipo Faccio tutto quello che voglio Però vediamo Prima inizia a parlare delle skill Però Pala ci ha fatto notare Una cosa divertentissima E a questo punto Ve la faccio notare anche a voi I link di questa bellissima donna Sono Copposedone Hypno Stanto Seave Per l'amor di Dio Che danno 1% E poi danno 0,04% Certo Scende Perché è il potere di Pandora Cioè torna indietro E si toglie da solo E ci ha Ah quindi Sì sì Sola sua skill Da se stessa Comunque A tre link Solo per adesso Dovrebbe all'uscita Avere anche il quarto Almeno credo Quello dell'HP Quindi spero di sì Perché questo dell'HP Ne avrà bisogno Ma partiamo subito Con le skill E poi andiamo a vedere Nel trial Vuoi che ti metti direttamente Il trial? Le vediamo da lì? Mettiamo il trial Dai Almeno Ah vi mettiamo da qua Così hanno vita infinita Così si vede anche Le skill a 5 Perché ci danno Ah già è vero Perché Allora ragazzi Non fate l'errore Che stanno facendo alcuni Nel codex Sono presenti I primi due livelli Delle skill Non vi fa vedere Al livello 5 Però D'altro canto Qui invece Non possiamo vedere I livelli 3 e 4 Di conseguenza Allora da quelle partiamo Dalla brillance Ok Brillance form Che è anche quella Che useremo di più Allora Partiamo da questo personaggio È duale Partiamo dall'ultima skill Che è quella Che descrive la forma Passiva Allora Sì Qui però Aspetta la apro Penso che rimaneva Ok Praticamente La skill dice Prima di fare Un'azione la prima volta Lei È immune ai controlli E quindi Tocca a lei E può scegliere Una delle due modalità Questo è un personaggio Con doppia modalità Che hanno tanti nomi Fighissimi Che io non mi ricordo mai Che penso voi nemmeno Quindi c'ha La forma dei basic E la forma High energy Che sarebbe Quella dei basic La brilliance E quella della high energy Ante Però Io direi di toglierci Questo dente Che altro ha Che è bruttissima In italiano La forma brillante Cioè la cacciatrice È figa da dire Brillante Un po' Ah magari Splendere Boh Sì Splendore Twilight Ecco Comunque Prima di iniziare Vorrei fare una domanda Giusto per prova Perché in sacred Non mi è capitato Di provarlo Perché nessuno Me lo fa Ma ok È immune ai controlli Ma secondo me Non è immune A restrict Tipo di shaka Perché anche l'une Tipo può subire Restrict di shaka No Dovrebbe essere La scelta La fa comunque Non è E però lei costa uno Quindi se prende Il divieto da uno Non skill No no Non skill Ma non c'entra Lo skill Con la scelta Delle tipologie Ah no no Per questo Questo aspetto È immune ai controlli Non lo so Cioè io ho paura Che abbia sto difetto Teoricamente Da come è scritto Se qualcuno agisce Prima di lei Non le fa niente Da quel punto di vista Speriamo che sia così Tra parentesi Non è immune È hypnos Perché hypnos Mette un marchio E poi si attiva dopo La sua azione Quindi Che è una Canta No ma in realtà Il punto importante È che lei Comunque Quando fa la prima azione Può far la scelta Poi magari Il marchio Che le impedisca Di skillare Può anche essere Che funzioni Ma non la limita Più di tanto La cosa importante È che lei Può scegliere Quale delle due forme Assumere Quella Non ti può essere impedita Questo assolutamente Anche perché poi Le due forme Differiscono Cambiano tutte le altre skill Cioè è come dire Cambiano la seconda skill Non cambiano tutte le skill Vabbè però Cambia proprio l'utilità Della comp Su queste due skill Si basa Tutto quello che voi Porterete dietro Quindi Pala Partiamo dalla brillante Allora Più che altro Partiamo da un disclaimer Una delle due Verrà usata Molto più dell'altra Perché Artemide sarà un personaggio Che o sarà bannata In Galactic O quando verrà usata E sarà un Mirror Come è il detto Se un uomo con una pistola Incontra un uomo Col fucile Un uomo morto Se un Artemide Con Brilliance Incontra una con Hunter E quella con Hunter È morta Perché C'è una grossa Differenza Di forza Relativa Magari Ci saranno dimensioni Per team Che usano Hunter Ma Brilliance È veramente No brainer Ed è veramente potente Ed ha delle interazioni Abbastanza rotte Con alcuni personaggi Soprattutto Anche perché Attualmente I personaggi Più meta Sfruttano 20 volte meglio La Brilliance Che l'Hunter No ma perché L'opposto Perché in Brilliance Lei è un support In Hunter Lei è il DPS E che tutti gli altri Sono suoi support Perché il punto di Hunter È che Qualcuno deve far danno Lei accumula quel danno E poi inizia a sparare Come una bestia Di satana Solo che Lei è fragile E tu non vuoi usare Lei come DPS E questo perché Questo sarà uno dei problemi Che affronteremo Quando il PG sarà uscito Nel video dei Cosmi Perché lei ha un cosmaggio A parte diverso In base alle forme Molto complicato Comunque Quindi Questa Brilliance Prego Pala Allora Vabbè In entrambe le fo Ah Altro disclaimer Partiamo dal fatto Che la skill La skill 2 E la skill 4 È a livello 5 Perché sotto Probabilmente Non sarà Quasi utilizzabile Ovvero sarà Fonte inutile di bestemmia Ovvero Prima bannarla Comunque Parliamo quindi Di livello 5 In entrambi i casi Se qualcuno la uccide Va in DPS Per un turno Per un round E vabbè Questo è Abbastanza lineare Quello che ho notato È semplicemente La crescita Che passa Dal 20% Nel rank 1 Al 100% Nel rank 2 Dove c'è scritto Un 100% Togliete un 20% Per ogni livello Che non skillate Per quello Che va skillata 5 Perché al 4 Sarebbe 80% Dove c'è scritto 100% È molto rischioso Probabilmente È così almeno Non siamo sicurissimi Perché non si può Vedere lo 4 Si vede l'1 e il 2 Però È l'1 e il 20 Il 2 e il 40 Quindi in teoria È 20-20-20 Però Dopo Allora Quando è nella forma Brilliance Quando un alleato Fa un basic Lei Fa l'assist Sullo stesso target Con un basic suo Abbastanza A parte È bellissima l'animazione Partiamo da questo Sì Allora Fuco Fa il base Assist Altro base Eh ora ci arriviamo A questa parte Perché è la skill 2 Quella dipende dalla skill 2 Che hai fatto Eh lo so E adesso infatti Andrei a parlare di quella Aspetta Vediamo se abbiamo finito Di là Ah Altra cosa importante Durante i primi due round Della battaglia Artemide Restricta Il team avversario Impedendole di guadagnare Le prime due energie extra Del round Ovvero Il Marsferry Se non sbaglio Funziona Sì Però se magari L'altro usa Athena O G-Kanon Se usa Athena E fa le lande Prende 0 Se usa G-Kanon Invece di 3 Prende 1 Quindi C'è Oltre a essere una forma Che incoraggia Il tuo team A fare i basic Impedisce all'avversario Di fare tante skill Se usa generatori di energie È È molto forte È molto forte Per fortuna Allora Se avete Athena Col basic a 4 Lo sentite Relativamente di meno Ma G-Kanon qua Però non nega anche quello Nega solo le skill attive Cioè Il basic Le prime due Quindi le lande Solo le prime due Apre le lande Rip Finita Ok Quindi il basic va Invece G-Kanon Il fatto che le può generare Solo al primo turno È molto castrato Da questa skill Perché Non puoi più fare Per esempio Una G-Kanon Sirio senza Athena Perché G-Kanon Non ti genera abbastanza energy Per sparare lui O per far sparare pure Sirio È difficile giocare Posso passare alla 2? Sì Allora Moonlight Shining Lei fa appunto Questa skill Che costa 1 Su se stessa Questo dura Due round Allora Intanto Tutti i saint Fanno il 20% Del danno extra Quando fanno Un basic E fanno il 10% Del danno meno Quando usano skill Che non sono basic Per la precisione Fanno il 20% Del danno extra Prima di fare Un'azione Sì Ma prima di fare Un basic No Ma la cosa importante Perché tipo Thanatos Se lei Schilla Tra lei E Thanatos Vengono gli attacchi Lui fa l'oe Lui ha il bonus Anche su quella oe Interessante Non me l'ha capitata Questa interazione Perché l'avevo messi vicini No ma è uno dei motivi Per cui dico Può essere conveniente Refreshare Resta skill Ogni turno Invece di far fare Il base A Artemide Perché Le fai Guadagnare Quel 20% Se per caso L'aveva perso Perché invece Va tutto skillare O fa l'altro Ok E poi Gli alleati Prendono 80 Alle difese Per 4 round Quando un alleato Usa un basic Fino A 3 volte Praticamente Fino a 240 E Non sottovalutate Sto valore Non sottovalutate 240 di difese Non lo fate È un buon aiuto Comunque È una parte support Che rende il team Più esistente E più Un 100% A livello 5 Quindi presumiamo 80% A livello 4 Ovvero Tante bestemmie E via dicendo Quando fanno un basic Guadagnano un turno extra In cui possono solo fare Un altro basic Ma quindi Ne fanno due E facendo due basic Lei Assiste Due volte Col suo basic Quindi Praticamente 4 attacchi Al costo Di 1 Ma la cosa Fida di questo C'è prima L'ultima No L'ultima 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 Parte Il basic Che per me È la cosa Più bella Del mondo Anche perché Mi hanno fatto Sto regalo Di fare un saltello Ulteriore Da 80 A 120 Allora Il basic Scala tanto A livello 3 Scusate A livello 4 A livello 5 Da 160 Va a 180 A 180 Va a 200 Per cento I danno L'ealing Aumenta Di un 50 Per cento Tra il 4 E il 5 Quindi Allora Versione Eurospin Lo tenete Lo tenete a 1 Così Se la volete Ottimale Sto poso Vi serve a 5 Io ho una domanda Perché non c'è scritto Quindi qua a me viene sempre Il dubbio Anche se di solito Quando la scritta è verde E così Conterà il più healing Visto che in sacre Non si può provare Questa cosa Di solito Conta sempre più Di solito Quando è in verde Conta Quindi Attenzione a questa Piccola magagna E healing Non è HP Non è life steal No È proprio cura Quindi lei deve avere Ok Quindi deve avere anche healing Quindi vuol dire che Praticamente A livello 5 Quando assiste Un doppio basic Lei fa un 400 Per cento di danno E un 240 Di healing Così per ogni personaggio Che Fa i basic Del suo team Insomma Si accumula velocemente Sta roba Tipo Adesso Se noi qua Prendiamo l'una Facciamo il basic Lei fa il basic E cura 3002 In questo momento 3002 Perché ha 2704 Di cattac In questo preciso momento Quindi Pensiamo che I valori Almeno secondo Le mie stats Saranno Senza metterci Healing Intorno ai 12 13k Di healing A botta A base Io più Perché avrà quasi Avrà più di 10k Di cattac Vabbè Ma quasi quasi Sono meglio i rosari Tu avrà 13k Di cattac Totale Io ci metto i canta Su questa Eh non lo so io Se gli metto i canta E rosari Visto che aumenta Anche il cosmo Non lo so Devo vedere Sì È molto personale Secondo me Sto personaggio È molto dove c'è le speed Diciamoci la verità Vabbè Dipende molto Se vuoi farla curare Quindi metterli Cattac E basta Quindi addirittura Probabilmente I cistone Danno più cattac Di agli altri cosmi Se vuoi farle Far danno Probabilmente Sono meglio I dragons Non è rc Se Milo L'hanno messo Nel trial Ma che Vabbè Che cavo Allora Ah è importante Quando ci sono doppi turni extra Da altre fonti Lei non dà nessun extra turno di suo Infatti avete Giustamente Non li raddoppia Però lei fa l'assist Comunque su tutti Sì sì Lei fa l'assist su tutti Però non li raddoppia Perché altrimenti Milo arrivava a fare Dieci attacchi In un turno Era un po' eccessivo Sì sarebbe stato rotto Infatti Con l'una Con l'underword Non funzionano Non si cumulano Infatti In questo trial In realtà La presenza di l'una È un po' ambigua Allora Visto che il suo potere Dura due round Il secondo Potreste fare basic con lei E ne può fare due Sì perché Quando fa così Infatti C'è ancora Chi la gioca con Rock Per fare questi due base Perché ogni due turni Avete un turno bonus Tra virgolette Chiamiamolo così In quel turno Potevi anche usare La terza skill Esatto però C'è anche la terza skill Oppure riattivare La seconda ancora Perché lo puoi fare a spam Non è che qualcuno In questa forma Sì Io Passerei all'altra Infatti adesso Vabbè Parliamo Della skill 3 Per completezza A sto punto Va bene Parliamo direttamente qua Sì sì Allora Divine Deprivation Skill strana Ed estremamente potente Estremamente versatile Questa skill Fa tornare Alla forma Originale Tipo di inizio partita Danno sulla vita a parte Un sente avversario Cosa vuol dire C'è un bellissimo Mew che svolazza Felice Ritorna un ovetto C'è Tanatos Che ha messo Neanche ovetto Ritorna Ritorna l'arva L'arva Si chiama uovo Ah è vero La prima si chiama Uovo Voi state parlando Ma l'uovo non è Trisalide No Quello Chiamano bocciolo Tipo In italiano È strano La traduzione Ma Posso far notare Che scala Del 300% Tra 1 e 5 Sì Ma Se hanno una skill Usate 1 o 2 volte A partita Non conta assolutamente Niente Comunque Ridi cosa fa Quando c'è Tanatos Si toglie L'occhio E toglie la rage Ok Lo porta Quindi toglie l'occhio Se l'ha piazzato in giro Lo porta a 30 rage Che è il modo in cui Inizia la partita Perfetto Ragazzi Non è questo il problema Io Mi sento un po' male A dirlo Ma Se contro avete Atena morta Lei la leva dal gioco Cioè Sì E che è poco probabile Di usarlo su Atena morta Però Lei parte prima Parte prima di tutti Quindi se c'è uno in soia Dici Oddio Perché praticamente Essendo un altro personaggio L'Atena fantasma Che non era presente All'inizio del gioco Lei la elimina La stessa cosa fa con Shion Supplice È vero La cambiata La spazza via Allora E annulla L'Ares Se colpisci un personaggio Che ha l'Ares L'annulla Buono È forte È forte Tra le altre cose Credo che tolga anche i personaggi Della corda di Shion Anche se non ho provato Addirittura È perché Non era la corda Inizio partita Però andrei provato Questa se ti interessa Per forza 5 Perché ti fa 3 turni Parliamo dell'ultima parte Della skill Però c'è il rischio Che la corda Venga messa dopo di lei Quindi potrebbe essere Un uso un po' Un po' inutile Però Parliamo dell'ultima parte Della skill Che è un po' Complicato Allora beh A parte ha un cooldown Di 4 round Quindi Difficilmente la userete Una seconda volta A meno che la partita Non si protragga a lungo E voi usate Comp con Shion Molto tossiche Ma ci saranno Anche queste situazioni Allora Non parliamo del danno Come scala Perché non si usa Tanto per il danno Parliamo del costo Allora Parte con costo 0 Al round 1 Al round Dal secondo round Aumenta il costo In base a quanto Livellata la skill Fino a Da livello 1 A livello 3 Aumenta di 2 Dal livello 4 In poi Aumenta di 1 Quindi cosa succede Andrà a 2 4 6 No 8 No Arriva fino a 6 Oppure Se è a livello 4 Andrà 1 2 3 4 Allora Questa skill Spesso La userete Il secondo round Usandola Il secondo round La differenza Tra 1 2 energy Considerando che È una comp Low cost A livello di energy Farete quasi solo basic Non vi pesa Più di tanto Se accettate Un utilizzo Abbastanza limitato Di questa skill A inizio partita Tra pareti si può anche usare Round 1 Se avete contro Un artemide Più veloce Le togliete La brilliance Sua E smettono Di fare Doppi attacchi Il suo team E quindi Questa cosa Vi costerà 0 Quindi questa La cosa strana È che però La scelta Non viene riproposta Mantiene la forma Si è vero La fa riproposta Non la riporta Proprio A inizio A inizio Gioco Per lei È un po' strana La cosa Quindi Questa skill Idealmente La potete lasciare A 1 O portarla A 2 Per fare in modo Che il costo massimo Sia 5 Invece di 6 Potete lasciarla A low cost Se la volete usare In modo ottimale Possibilmente Anche verso endgame Oppure in turni Un pochino X La volete a 4 Però è abbastanza friendly E tutto sommato A 1 funziona Fa quello che deve Io per essere onesto Per dirvi Io sarà la skill Che lascerò a 4 Però Nel testo Manca una cosa I turni Il cooldown Esatto Il skill ha un cooldown È scritto Every round Sì però Dice 3 o 4 Io quello l'ho capito Ma perché 3 o 4 Vuol dire che magari A livello No no Up to 3 Virgola 4 round cooldown Per ogni target Che l'ha subito Ok Ok Il cooldown Quindi non cambia No Il cooldown È sempre lo stesso Sì diciamo che Questa è quella Che si può lasciare Da parte Per un po' 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 Allora In realtà Nemmeno se la provassimo In sacred Possiamo farvi vedere Bene come funziona Quest'altra forma Perché mi è rimanato qua Se non è il codex Vabbè Perché C'era yoga che voleva Partecipare al video Effettivamente Sono anche io bionda Più o meno Lo usate Sì e no Attualmente Con araia E forse basta Pop Saga Con Poseidone Con città di costume Valla anche di meno Beh ma Poseidone Potendo posarla Sull'onda Guarda Con araia È molto buono In realtà Per come funziona Sì sì Con araia E saga Funziona bene Anche canon Sea Dragon Funziona bene Hunter Hunter Allora In questa modalità Lei Beh Apriamo la skill Che è a memoria La stessa animazione Mi sono sprecati L'altra parte Sì 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 Ok Allora In questa modalità Lei genera Un'energia Per i primi Tre round E in più Le energie Che vengono lasciate A parte da voi Dal vostro avversario Fino a due punti Se le prende E ve le mette a disposizione In inizio del round successivo Se non sbaglio Sì Quindi vi dà più energy Anche se vi costa Uno Castare Il dominio Però poi Ve ne ridà uno Ve ne ridà uno dopo Quindi vi aiuta Lei dà No Passiamo la skill Due Che c'è il resto Qui è più o meno Tutto Allora Costa uno Dura tre round Da Un bonus A difese A tutti gli alleati E Accumula Il danno Che fanno Gli alleati Fino al 50% Del danno Che fanno Fino a un 400% Del suo attacco Ed è qua Secondo me L'inganno Di sto VG Allora In più Voi virate Un alleato Quell'alleato La prossima skill Che fa O meglio Il prossimo Turno di azione Che fa Le sue skill Costano Due meno Quello dopo Costano Tre in più E la sto Stato stress È abbassata Del 100% E qua Secondo me Esistono gli inganni Cioè Idealmente A parte A Raya Che vabbè Può purificare Quelli vicino Quindi se avete Di cishune Roba varia Ok Ma un DPS Che non si può Purificare O non avete Lune Meno 100% Di res In teoria Va in negativo Sì Entra quasi In automatico Cioè Pure che uno Vi prende a caso Per sbaglio Col triangolino Di yoga Nemmeno a dire Chissà cosa Siete bloccati Vabbè Lo fai per Velocizzare L'uccisione Di qualcuno Quindi Sì Infatti Deve essere Fatti con Tipo Le icicale Ovvio è Che verranno fuori Tanti di quei misti Che una roba del genere Ti provoca Tanti Non ha problemi Però Lo status Stress Lo aumenta solo Nel turno successivo Non lo mette Nel turno Della ruzione Del costo Non lo so Questo Non lo sai C'è un difetto Nel sacred I valori sono sfasati Facciamolo qui Tanto si vede Sullo status Allora forse Qua si potrebbe vedere Ok Devo andare A turno successivo Ah non l'hai fatto? No lo so Che non mi ricordo Sinceramente Non l'hai castato Non vedo lo status Ok Ah l'ha fatto Su lei stessa L'hai fatto Sì Ho messo Non fatelo a casa E poi non ha potuto Caricare danno Tra l'altro Vabbè però Vediamo subito Se nella sua Meno 100 È la sua prima azione Eh lo so Però Io dico Ovviamente Adesso sei il secondo turno In quello Con il costo aumentato Il debuff Bisogna vedere Se nel primo turno Però tu nel primo turno In ogni caso Non hai la skill Col Col bonus Sì bonus Non lei Tu devi baffare Allora Sì vabbè devi baffare Tu fai Esci e rifallo Esci e rifallo E metti lo su Posso vederlo solo su Fiuco Perché da due Solo Fiuco c'è No puoi metterlo su Ah no Perché Atena fa le lande Quindi mi sa che Zompa la mossa Capito che intendo Sì però in realtà Lì dentro L'unico che puoi metterlo Che abbia senso È Milo Perché accumulare Un po' di danno Fiuco cosa va A accumulare No ma Vabbè è ricosciato Il danno è quello del team Non è del soggetto Che hai mirato tu Ah beh è vero Perché altrimenti Se fosse il singolo Ciao Quando mai Anche se A me I personaggi Che stanno prendendo Un po' la piega Di Di Cishun Non mi sta piacendo Sto fatto che mettono Tutti sti limitatori È vero che senza Sarebbero sbroccati Però l'SS Sbroccalo Hunter Marchia O Fiuco Ok Sì ho già lo stato Strestolto Meno 100 Hai già lo stato Strestolto Questo è un mal Ah invece C'è l'icona rossa In effetti Sì sì E quindi Quello è un bel Un bel problemino Quello è un bel problemino Avere già le cose tolte Cioè paradossalmente In realtà Con questa comp Cioè a parte Milo normale Che vabbè Quello che è Milo era DC Così trova tanto mana Perché O Fiuco Non ha dovuto skillare Però al turno dopo O Fiuco costerà un botto Quindi Sì sì Non ha senso Con O Fiuco Ha più senso Da quel punto di vista Con Hypnos Ma Non so se ti interessa Perché quella da zero Poi ti costerebbe due Comunque Ah sì Vero Con Araya Araya Se non fa Il turno multiplo Araya è l'unico Che la sfrutta a dovere Sto personale Attualmente Ade Ma anche la Pandora nuova Infatti Se noi noi PGP Erano un po' sta piega Sì Probabilmente Usciranno PGP Che la sfruttano meglio Comunque L'animazione è bellissima Del raggio laser Ecco Quello che dicevo Inizio video E il fatto che In questa versione Lei Poi per diversi turni Spara Con l'abilità Che adesso Pala Non l'hai fatta descrivere Ma l'attacco che ha Sì sì Ora lo facciamo vedere Così possiamo anche chiudere Il suo discorso Eccola qua L'Aunt of the Moon Questa skill È molto particolare Ovvero Tira gli scetti Anche lei Come la sua sorellina Praticamente Fa un 600% Di danno cosmico Al nemico Più Prende il danno Accumulato Dal team Fino al 400% Il suo attacco Lo fa come True Damage Che bypassa Tutte le forme Di condivisione Del danno Teoricamente Il contratto La corda di June Gli scudi Però È un po' problematico Perché è un danno Misto In cui il danno Cosmico Teoricamente Sta roba Non la fa Quindi Tipo Prendi il 600% Su un contratto Lo prendi te Il resto Lo prende Ade Praticamente Però Io ho una domanda Perché Forse Una cosa L'hanno fatta Intelligente O forse no Non lo so Beh ma Sarebbe stata La botta Anche un po' Forte Un 1000% Che passava Tutte le Però aspetta Non è che Lei funziona Come Mu Una volta Che hai sparato Poi si resetta Il cooldown Di quello Che hai assorbito E devi rifarlo Nel turno No perché Dura per diversi turni L'altra forma No Io parlo Dell'accumulo Cioè lui Dice Accumula Poi spara Però non dice Che succede Dopo che spara Cioè Se il danno Rimane accumulato O meno Rimane perché Lo sparo Ce l'hai per un paio Di turni Poi devi di nuovo Fare l'accumulo A quel punto Lo resetta Probabilmente Lo resetta Quando rifai Canning Però finché C'hai hunting Farà il danno Caca E quindi Il suo miglior amico Rimane Coso Rimane Raya Il miglior amico Di Artemide Però ogni turno Potrebbe resettarlo Tu dici Sì E io ho il paura Mi sia come Mu Ogni volta che spari Resetta il danno Io sto Durando Vabbè che Comunque Se insieme Hai Cioè 400% Del danno Fatto dagli altri Se i due dps Non è che sia poi Così tanto No lo rifai Infatti avrebbe senso Sarebbe anche corretta Come visione Cioè comunque È cappato Al fatto di fare 50k Ma infatti Mi sembra basso Il problema di questa persona Cioè che a me Sembra basso Cioè un SS Dio santo È vero che 600 è una marea Per l'amor di Dio È 400 È 600 più 400 E sì E arriva a fare Tanni E ok Il problema è che Tanni li monti Cosmi perché Tanni regge Lei no Cioè Non lo so È strano Guardiamole un attimo Le stat Ma non Il problema è che Viene targhettata A morte La devi velare Turno 1 Per non farla Targhettare Quindi il velo Dovrebbe essere Sprecato C'è una piccola cosa Che non abbiamo detto Dopo che lei fa La scettrata Prende praticamente La stessa cosa Dello scudo di Shion Senza il reflect Per 5 danni O 5 attacchi E quella è l'unica cosa Che la salva Però è una cosa Che fa Dal secondo round È solo la formante È un personaggio Che ti toglie In teoria Molti ruoli Di altri pg Quindi proteggerla Non dovrebbe essere Un grosso problema Secondo me Li mette e li toglie Cioè nel senso Rende tanti personaggi Che ormai hanno fatto La storia Buoni Altri personaggi Li può annullare Cioè è un personaggio Che ci stava È proprio quel ruolo No no Ma io intendo Proprio nella line up Cioè ti sostituisce Delle cose Che volendo Possono permetterti Di portare anche altro Però non so Quanto veramente La formante La vedremo Questo sarà da provare Comunque le statistiche Sono altissime Perché A S A A S È tantissimo La vita Penso che qua Si è semplicemente Raddoppiata Quindi dovrebbe essere 16k Sì dovrebbe essere 16k e 1 Sì Non so come fa Essere 7 Il primo che dispari Però sì Dovrebbe essere Solo raddoppiata Qua No Non solo è stato Sì la vita solo Raddoppiata Giustamente Quindi sì 500 di cdef È tanto Anche di pdef È tanto Molto lo fa Anche il tempio A 500 E qualunque Delle due forme Comunque Lei butta Alza le statistiche Quindi Le statistiche Le ha difensivamente Abbastanza elevate Sì infatti Secondo me Sto pg Bisogna solo di resistance Ma tante resistance Per il resto Cioè Perché lei va giù Molto molto facilmente Vi ricordo che questo personaggio È nell'Absolute Quindi è un tempio Che è stato spammato Tante volte Sì che bene o male Ce l'hanno tutti Quindi comunque Una minima mano sui templi Ve la danno Cioè io non so Sicuro che sia Letteralmente fragile Il punto è che Te la vogliono disintegrare Quindi te la targettano tutti E poi è di quanto fa L'Oe di Tantos Perché ovviamente Provarlo nel sacre L'Oe di Tantos Fa pochissimo Rispetto a un Tantos Del Galactic Che comunque Lei Dall'Absolute Fullato Prenderebbe altri Un 12.000 HP Quindi cioè E proprio prende due Poi anzi Pia pure il 5% Da bonus No no Pia ne piglia Di stazio Sta ragazza Però A parte essere bersagliata Da qualsiasi cosa Bisogna avere quanto reggi Ho paura Un po' come Shaka Cioè Shaka Una Oe di un PG È andata Ma Shaka Ha un'altra vita È di lei Lo so Assolutamente Anche altre difese Secondo me A parte il fatto Che lei Quando fai base Nella forma Brilliance Si refilla Cioè È pensato bene A sto personaggio In realtà regge Non so Dovrei usarlo Nell'altra versione Dell'Hunter Nella Brilliance Si refilla Quello più basso di vita Quindi potenzialmente Se stessa Nell'altra comunque Sparando Si mette su Uno scudo di Shion Per 5 attacchi Che hanno solo Voghi Bisognerà là Vedere come contano Gli attacchi È vero Ma a prescindere Si tira su delle Cioè A me sembra completo Come personaggio Poi Non potevano farlo Super rottissimo Che facesse tutto E fosse immortale Non male che vada L'accompagni con Ippi e Tanni E il PG di contorno Perfetto Su quello non ci piove Ippi Tanni Ippi Tanni Vabbè E niente È una nuova moda Abbiamo una piccola parentesi Vai che Però dobbiamo chiudere È lunghissimo Siamo già a 30 minuti No Partiamo del nuovo personaggio Che con lei Diventa TRSS La sua partner in crime No non lo di per adesso Non lo dire che Se no poi la gente Si inizia ad abituare Lo scoprirete In un prossimo video Se lascerete un botto di like Perché c'è un personaggio Che Il botto di like Ci fa bullare È vero Quindi nel prossimo video Dove faremo vedere I suoi cosmi Dovrete lasciare un botto di like Se volete sapere Quale personaggio diventa Il secondo personaggio Più forte del gioco Senza Sì senza ma Perché È donna C'è un piccolo glitch Agli occhiali C'è un piccolo glitch Che In realtà È la stessa cosa di Milo Vi lascio solo questo indizio Milo DC ovviamente E niente Con lei in campo E lei insieme Non dico dovete Surrendare per forza Ma poco ci manca È discapposo Sì In saga dovete surrendare per forza Perché non avete modo Di fare over damage In Galactic Forse la scappottate Non lo so Ah tra le particolarità Che non abbiamo detto Che abbiamo notato È che lei l'assist Lo fa anche Se è sotto Se è sotto stun Se è incatenata Congelata Lei l'assist Lo fa prescindere È come Tana Tozzo Lei Se ne frega Oddio Sì Ecco Vabbè Allora ragazzi Da me per oggi è tutto Vi ricordo Quello che ha detto Dario All'inizio video E niente Spero che per una volta Non lasciate troppi like Invece E noi ci vediamo A un prossimo video E alla prossima live Buona serata ragazzi Ciao ciao Viva Tanni